Musica Matteo Salvini ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo che un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità ha riportato alcune intercettazioni tra magistrati in cui le toghe cercherebbero dei motivi per attaccarlo anche in mancanza di azioni illegittime. Il leader della Lega, che a ottobre sarà chiamato presso il Tribunale di Catania per rispondere all'accusa di sequestro di persona, chiede quindi al Capo dello Stato che gli assicuri un giusto processo.